Musica 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 Benvenuti in questo nuovo video sul canale di Dregote di Neskorpion Siamo qui a tutti Ciao a tutti ragazzi E' la mia modalità preferita e dove ci troviamo ragazzi Siamo qui ragazzi nel server frost world Un server aperto da pochissimo trovate l'ip in descrizione Passateci numerosi Ok esattamente Allora in che mappa andiamo Io vorrei andare Nella mappa di Arctic Runner Ok ragazzi Eccoci qua siamo qui nella mappa Cold War Una mappa piena di ghiaccio e vediamo un po' come Scopriamo 20 sono entrate Attenzione che vogliono tutti arti che Ok ragazzi E' iniziato E' iniziato E' morto Non lo so Che bordello che è Si anche io so più o meno come si gioca a Quei che sono abbastanza pro infatti appena No 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 Io sto figgendo troppo Stai figgendo troppo vai mid Vai mid Scorpio Ok 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 E' ORG Ok Attenzione Attenzione Rega sto facendo il devasto E' una figata vi consiglio di provarlo Nel in questo server perché è un server che ho line dissi Ha per persone Non lagga un cazzo Non legge un cazzo In breve No perché Arti Perché mi fai questo Praticamente ho vinto 17 gavanti Non è possibile rega Io sono troppo forte Non è vero sto facendo schifo Io non lo so Io ho 3 kg no no io faccio la provata adesso attenzione lì un tizio al volo raga non vi preoccupate raga vincere arctic attenzione lì c'è scorpio spesso spara in testa d'arte dai è impossibile raga è impossibile da questo qui ha le hack oddio non ne prendo uno rega no 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 rega impossibile ho vinto vinto io e scorpio abbiamo fatto 6 6 io direi di farne un altro se da rega ne facciamo soprattutto un altro in un'altra mappa ok regali è partito è partito è riuscito già artica è partito io ci do arti grego questa quale rinco non parla di come si spiace la cosa è piccina non c'è l'ho fatto la doppia no no che ragazzi ragazzi ci siano io non c'è nici che cazzo io sì che stanno in giro per la parte trovo numerosi io sono secondo reganti da poter io sono ce la possiamo fare davvero molto easy questo qui intanto e fk quindi allo ucciderò grazie a loro la unisbisiremo quisi io sto chiedendo tutti per carici sempre cazzate e sì perché dei video per passare il tempo bisogna far così altrimenti troppo ma ho visto arctic ho visto arctic arti ti conviene stare attento molto attento non è vero tu non mi hai ucciso e per un'illusione ottica è davvero un'illusione ottica l'illuminati con firma regaio tipo cammino ammazzaggente o eccone uno eccone uno siamo hanno fatto fuori ma perché 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 sei nato perché se capito una di me e dai è vero e qualcuno devono tornatene a casa ma dai non ne prendo una regala sui a uccidere go ciao arti che non ha ricordato bellissimo ciò arti questo qui è il vero scorpion bella scorpion si ho fatto fuori scorpion e poi hanno fatto fare esatto perché che artic l'artic dell'artic regolo di no 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 best in the world a tappetta a tappetta qui ci penso io ringrazio la gistola vabbè un botto di gente fuori ok non ci danno ci sono 22 ghi e sto a 9 dai ma non vale davvero molto bravo in questo non lo so io in teoria un giorno un giorno ero bravo adesso un giorno giro nero come prima non ho anche l'ultimo ho ucciso scorpion non ce la farai non ce la farai mi dispiace ho già vinto ho vinto bella ho ucciso un altro perché come fa ma come cacchio fa scorpion no mi hanno ucciso manca l'ultimo vado a decidere questo scorpion no è già finita non mi dire che è finita no no ho ucciso scorpion alla fine scorpion ragazzi da terzo posto passa a quarto ultimo va bene va bene ragazzi allora io direi che per questo video è tutto mi raccomando lasciate un mi piace un commento di iscrivervi ai canali in descrizione passate al server che trovate in descrizione questo server qui comunque sia questo mio gioco qui lo troverete nel server che troverete in descrizione mi raccomando giocateci perché un gioco davvero molto fico e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi